Ciao a tutti volpine e volpine, benvenuti e benvenuti in questo video, benvenuti sulla terza puntata di Minecraft Dita Siamo attaccati dai pillager Ok raga, io direi di andare fuori, affondiamoli in una maniera o nell'altra Aspettiamo che sparino tutti Abbiamo il badomen, quindi facciamo attenzione Ok, facciamo così Volevo evitare di spoilerarvi quello che ho fatto Però non ci sono riuscito Ok, allora Abbiamo un sacchino d'acqua che momentaneamente butterò qua E ci andremo un poco a curare Beviamo questo momentaneamente Adesso raga vi dico un pochino come sono procedute le cose Innanzitutto ho continuato a fare il secondo piano Perché le cose off camera mi riescono meglio Secondo, devo mangiare Così togliamo questo cibo dall'outbar e mettiamo quest'altro Terzo, abbiamo uno standard qua che potremo appendere come faccio anche negli altri miei monti Qua, appena avremo un altro lo metteremo qua accanto Allora innanzitutto con della lana che sono andato a tosare dalle pecore Ho craftato questi quadri che ho appeso in questo modo nel primo piano Così per abbellire questa murata che era un poco nuda, senza nulla Quindi ho messo in questo modo gli stessi quadri Qua e qua, qua e qua Al centro mettiamo il baffo E qua lateralmente c'è Kijan E qua la casetta, in poche parole Se saliamo invece al secondo piano Olè, e le Jason V C'è una crafting table perché stavo per finire i lavori Ma mi sono venuto ad attaccare Quindi sono dovuto scendere per, diciamo, ucciderli Avevo in mente di mettere dei pannelli di vetro qua È solo che inizialmente avevo messo le botole per prima Quindi ho deciso soltanto di lasciarli qua sopra Quattro e quattro in questo modo così Sto cercando di chiudere il piano superiore Di fare un tetto un po' univoco Infatti ho raccolto un sacco di legno per questo Dalla giungla là sotto Un'altra cosa che vi devo dire è che ho messo l'Optifine per la fabbrica Non pensavo che esistesse Ma in realtà mi ha sinceramente alleggerito un sacco il mondo la registrazione Quindi adesso facciamo anche in alta testa Potete vederlo Facciamo 220 fps nonostante io sia registrante Quando registravo sentivo questa cosa un po' pesante Invece adesso la sento molto più leggera Ed è meglio per me Quindi la mia idea era principalmente di rompere questo letto Portarlo al piano superiore Perché qui faremo per l'appunto la stanza dove si dormirà Questo qua lo potremmo anche togliere Perché non ci serve più E diciamo di metterlo così, sì Dai, dormiamo qua Ok Lo so che la stanza è troppo stretta e lunga Però sto cercando di pian piano modificare il tutto Se ne apri più una nave questa qua che è una casa Però vabbè Quindi prendiamo le slab Aiutiamoci a salire qui da questa parte E potremo provare a Chiuderla così Così ce la togliamo di mezzo E chi si è visto Si è visto Potremmo fare la stessa cosa qui da questa parte Ok, togliamo questi Quindi craftiamo Cioè continuiamo a craftare Facciamo così Facciamo un po' di cesta Perché ovviamente Qui andrà ben riempito Ovviamente questo qua non sarà il magazzino Ma come vedete è soltanto una casa Pian piano faremo tutto Visto che si possono craftare un sacco di cose Quindi benvenga Per quello che potremo fare in futuro Vediamo qua in F3 Il livello della luce qua Blocco 12 13 L'importante è che non scende sotto a 7 Se non scende sotto a 7 Siamo a posto Ok Qui non può spawnare nessuno E questa qua è una cosa molto molto positiva Ovviamente regà Crafteremo le lanterne Però ci serve il ferro Adesso non vi preoccupate che facciamo tutto in questa puntata Craftiamo un altro letto E ce ne andiamo in caverna A vedere quanti orri ci danno Questi nuovi oggetti che hanno cambiato Quindi il ferro Oro Queste cose così E chiudiamo questa parte Qui sinceramente potremmo fare una cosa Di questo tipo Craftiamone ancora di più Anche se qui il legno già ce l'avevamo Però vai Chi se ne frega Tanto regà Piano superiore Non ci può colpire nessuno Tra non random Però è molto difficile come cosa Ok E questa l'abbiamo completata Momentaneamente la lasciamo così Adesso una cosa che devo fare È modificare questo poimento Perché ovviamente noi non vogliamo che La casa sia così Prendiamo questa crafting table E la mettiamo Un po' Non lo so Momentaneamente la crafting table La mettiamo qua Quindi vi stavo dicendo Di fare una cosa Un po' diversa Vediamo questa cosa brutta Di cobblestone Che non mi piace E cerchiamo di fare Una scaletta Adesso non Oh ma c'è il suo amico Oh di nuovo loro E basta Però sono sempre quelli con la balestra Ho sempre tre Sai che possibilmente Mi avete rotto le palle Io mi paro Ma perché mi distrugge Ecco Ah che palle Questi pillager Bastardi Mucchetta Mucchetta Mi serve il tuo aiuto Non devi andare No non devi andare Resta qui con me Fammi bere Eh Ma è un bug Che sono sempre qua vicino O io non so Quell'entermen di giorno Che cavolo fa là Non guardiamola attentamente Forse che viene Ah questa qua è per la costruzione Devo toglierla Lo so Rega l'unica possibilità è questa Volevo fare una cosa un po' Mischiata Ma purtroppo Se non guardo un video E queste cose Non le so fare da solo Eh Quindi Per aggiungere un po' più Di dettagli e profondità Mettiamo queste slab qua sotto Possibilmente Potrebbe cambiare anche qualcosa Mi scuso se non sono magari Più bravo a fare queste cose Ma Capitemi che Manco riesco a passare da qua Cioè deve essere l'arco 3 Ma pericà Se avete suggerimenti Comunque datemele E sono sempre ben accetti Quindi direi che La casa l'abbiamo completato Un'altra cosa che vi devo dire È che ho trovato questa Questa cosa qua È la dripstone in inglese In italiano è blocco di speleotema E in più Lo speleotema appuntito E l'ho trovato là sotto Nel lago Perché ero andato a fare Lo screenshot per la miniatura Del video Cioè quello precedente Sono caduto nel lago E ho trovato questo Dripstone appuntitos Ovviamente materiale Ci ritraspariremo dopo là Lo farò tutto off camera Raga che mi riesce meglio Quindi Liberiamoci un po' L'inventario di queste cose Non mi interessa per adesso Essere preciso Nel mio fare So solo che Mi serve un po' di cibo Questo qua è un altro stentato Che come vi ho detto prima Appena ne avremmo ucciso un altro L'avremmo messo qua Ah ma che poso legno Che devo fare Tante cose Tante altre cose Devo fare Devo craftare Il reginto Mamma mia Raga Mi è loro dimenticato Facciamo un po' di questo Un po' di questo Vediamo quanti ne riusciamo a fare Allora Facciamo Un po' di staccionate Quindi ne facciamo 15 Poi trasformiamo tutto il legno Perché Ovviamente Ci servirà Poi facciamo Qui non la vedo Ma perché Possibilmente non abbiamo un bastoncino Ecco perché non la vedo E devo fare i cancelletti Questi qua ne possiamo fare Quattro Ambo i lati All right Let's go Ok E poi con la Lana bianca Che ho raccolto Tosando le pecore Non è possibile Quanta lana io riesco a prendere Da tipo 10 pecore Cioè In solamente un minuto Dopo che le ho tosate Sempre le stesse pecore Cioè è una cosa Che non mi riesco a spiegare Io direi che possiamo fare le cose Un po' distanti Quindi direi che con la pala Togliamo questo qua Che resta qua Che adesso Ti intrufalo Diamo subito Il Cangelletto E facciamo tutto un blocco Più indietro Perché non è Simmetrico Quindi con la lana Facciamo i tappetini Già ce ne fa tre Very good E li mettiamo qua Per salire Possibilmente Facciamo anche da Toyota Bravo Fiamo anche da questa parte Ne mettiamo anche Più di uno Non da quella parte Perché tanto noi veniamo qui Da quest'altra parte E mettiamo un altro Cangelletto Magari lo mettiamo Nell'altra mano Quindi il cangelletto Lo mettiamo qua Ok Benissimo E adesso Mi serve del grano Mi serve del grano Perché devo Attirarle Io ho del grano Non ho mai piegato dei semi Non ho mai fatto una di queste cose Mi sa che è l'ora di Prendere il legno Che già abbiamo E fare Una zappetta La faremo d'oro Quindi ecco qua Zappetta d'oro Pronta all'uso Abbiamo un seme Ma ne possiamo raccogliere altri Qua avevo Cotto tutto il lengotto Di rame E l'ho messo qua nella cesta Avevo creato i blocchi Tra l'altro ne possiamo fare Un altro di blocco Possiamo fare Così direttamente So che questi blocchi qua Se esposti per molto tempo Possono cambiare forma Possono deteriorarsi Però noi Non ci interessa Abbiamo altri qua Prendiamo anche le carote Per dopo per I maialonzi Prendiamo anche questi Questi Mettiamo prima Questi qua Questi qua Almeno li abbiamo davanti casa Facciamo una Una cosa bella Ok Questi qua Cresceranno Primo o poi Per i cactus invece Facciamo una Cosa di questo tipo Provvisore così raga Dopo faremo tutto automatico Non vi preoccupate Però provvisore così Almeno mi ricordo Che sono qui Da questa parte Certo dovrei togliere Quel terreno Però Anzi Sai che vi dico Facciamo così A distanza di uno Così è meglio Quindi mangiamo E Sappiamo la vigna Facciamo così Così E anche Le carote Ci abbiamo l'ultimo Quindi facciamo Così Adesso se non sbaglio Io dovrei averci Un po' di Bone meal Ecco qua Un osso Vabbè Tanto Ci serve Per fare quello Che andremo a fare Ci servono Solo a media Tre pezzi Uno due tre E lo prendiamo E ripiantiamo E possiamo allungare Tutto così Adesso Noi basta un pezzo Di grano Per attirare Le mucche Adesso verranno tutti Eh Sia pecore Certo Sembra giusto Mamma mia rega E come cavolo Li divideremo Eh non lo so Dai dai Entra Entra Oh Basta basta Brava Dai vieni qua da me Vieni qua da me Vieni qua da me No la mucca è ultima Non era questo il piano Non era questo il piano La mucca per prima Vuoi dopo No 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 Non uscita Non uscita Entra Non vuole entrare Rega Detto così Detto così è un po' Misteriosa Come cosa Ok raga Ho messo Dei crafting table Qua Giusto per Non lasciare Questo spazio vuoto Così anche possiamo Craftare le altre cose Che ci mancano Quindi Altre fences Questo invece Facciamo con i cancelletti Dietro e avanti Quindi facciamo così Chiudiamo E così Ok rega Abbiamo tre Chiudi Eh volevi scappare Ma non ci sei riuscita Ok Bene Quindi mettiamo Delle torce così Giusto per non farle crepare Delle torce così E craftiamo Altre tre Tappetini Uno lo mettiamo qua Se ti togli Ma Io non volevo farti male Però mi hai costretto Un altro qua E un altro qua Ok Così possiamo entrare In qualsiasi momento Bella la nostra casetta Barra nave Qui c'era un'altra Vuoi venire pure tu Dai così facciamo quattro E vi accoppio insieme Bastarde Che il ciclo deve continuare Lì pian piano Sta crescendo tutto Buono 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 Entra Entra Venchino 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 Bastarda Come voleva fuggire Bastarda Quindi non è cresciuto ancora nulla Canera zucchero Nulla E vabbè Ce ne faremo una ragione Comunque raga Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando Pollicione in su Commentate Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto E attivate la campanellina Per non perdervi nessun altro video Comunque raga Lì ho messo a formare i cactus Quanto lì 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 Ce ne stanno tantissimi E anche lì Però giusto per fare Un po' di contenuto nel video Dai Questo non può mai mancare Quindi è nulla Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando Pollicione in su Commentate Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto E attivate la campanellina Per non perdervi nessun altro video Ciao a tutti i volpini e volpine Bella Ciao a tutti i volpini e volpini e volpini e volpina